ciao a tutti ragazzi eccoci qua dobbiamo parlare di fiorentina juventus 0 a 1 lo sappiamo bene non è stata una bella partita l'abbiamo giocata veramente male avrebbe meritato la fiorentina però ragazzi il discorso finisce lì ho visto delle reazioni santo il signore che va bene adesso ne parliamo un attimo perché veramente ci sono tante cose da dire come sempre vi invito a mettere un mi piace e ovviamente vi invito a scaricare OneFootball il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione oppure qui con la fotocamera del vostro smartphone inquadrate il QR code vi parte il download in automatico perché comunque siamo già proiettati verso la prossima sfida di campionato che come detto ieri sera allegri è molto molto difficile molto molto importante il nostro focus sono vere tutte è vero che recupereremo qualcuno ma rimane difficile rimane importante è del nostro focus proprio da massimiliano allegri voglio partire perché ragazzi io io faccio un ragionamento no sono stato il primo a dire che la partita di ieri è stata brutta che non mi sono divertito che la juventus non ha avuto una fase offensiva di livello soprattutto nel primo tempo dove abbiamo completamente rinunciato ad attaccare sono stato il primo a dire che non mi piace vedere la juventus che gioca per pareggiare che gioca per non vincere lo sapete sono cose ormai note le dico sempre le ho dette con sarri le ho dette con pirlo le dico con allegri perché c'è un motivo cioè io riesco a godermi la partita e a tifare la juventus a prescindere da chi c'è seduto in panchina se per me guardate se domani mattina ci mettono topo gigio in panchina ma io tifo la juventus di topo gigio cioè finisce lì eh ragazzi perché se dobbiamo vivere il tifo in maniera assillante collegata sempre solo all'allenatore allora c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va perché è un discorso antico che faccio sempre in questo caso significa che odiate più l'allenatore della juventus quanto più amate la juventus è maggiore il sentimento dell'odio verso l'allenatore piuttosto che il vostro sentimento d'affetto verso la juventus e ragazzi questa questa è una cosa terrificante perché ci sta assolutamente essere tristi per non aver visto una bella juve però a me è capitato di leggere dei commenti ma nei miei stessi social eh ragazzi svegliamoci perché leggere che ci dobbiamo vergognare per la partita di ieri vergognare per la vittoria di ieri ma sapete chi si deve vergognare la signora con in mano il cartello putin gobbo a firenze definita la bellezza di firenze putin gobbo uno su twitter mi ha anche chiesto perché cosa c'è di offensivo cosa c'è di offensivo nell'associare putin alla juventus ma niente o ci dovrebbero vergognare quelli che hanno fatto quei bellissimi cori nei confronti di Lucian Blauvi dopo che erano stati loro stessi a condannarli mesi fa loro stessi e il razzismo Talgaterne ragazzi fa cagare il cazzo eh scusate il francese però va detto con grande chiarezza queste sono persone che si deve vergognare mi devo vergognare io perché ho vinto una partita così all'ultimo secondo dopo averla giocata male ma provatela a immaginare a Talgaterne al contrario a Talgaterne è di default in questo video immaginate la juventus che come partita dell'anno ha la fiorentina quindi il contrario di quello che accade perché per me è una normalissima semifinale d'andata di coppa italia punto ok provate a immaginare noi in realtà sentiamo la fiorentina rivale principale vendiamo il nostro attaccante alla fiorentina lo consideriamo traditore a tal punto da dire che putti ne gobbo vengono a casa nostra a giocare la semifinale di coppa fanno una partita terrificante all'ultimo secondo in casa nostra ce lo mettono lì con un autogol provate a immaginare la nostra reazione provate a immaginarla o immaginatevela viceversa vinciamo in questo modo se avessero vinto loro a torino al contrario loro sarebbero impazziti di gioia avete vista la mia reazione io non ci credevo perché non avevo capito cosa era accaduto e dopo una partita del genere giocata in quel modo a me è venuto da ridere perché l'abbiamo palesemente rubata quando dicono che siamo ladri questo è perché sul campo ai punti meritava la fiorentina sì ma finisce lì eh cioè perché poi c'è da godere di una roba del genere cioè se non riusciamo ad esaltarci di quello che è accaduto ragazzi è un problema è un problema di come viene approcciato il calcio per io allora mi chiedo qual è il motivo per cui viene seguito il calcio se non quello di esultare anche di fronte a situazioni comiche come queste per noi è tragiche per loro quindi traggi comiche perché io io ve lo torno a dire se potessi avere un contratto in questo momento da firmare che mi dicono guarda tu da qui alla fine dell'anno le vinci tutte replicando la stessa prestazione vedendo la stessa partita quindi un tiro in porta e basta di Vlaovic primo tempo terrificante passivi bassi quello che volete ma le vinci tutte con un autogol al novantaduesimo del loro difensore tutte da qui alla fine della stagione non lo firmate? ditemi se firmate questo contratto io lo firmo con il sangue a due mani perché significa che vinco la Champions la Coppa Italia arrivo in Champions League probabilmente in campionato e poi vediamo se c'è addirittura una rimonta Serie A io firmo col sangue un contratto di questo tipo per quanto preferisca vedere una Juventus che vince attraverso una partita preparata in un certo modo con delle azioni offensive con dei tiri in porta dei gol io col contratto lo firmo lo sottoscrivo lo firmo perché poi non bisogna mai dimenticarsi che noi andiamo a Firenze ad affrontare appunto quella che per loro è la partita più importante dei non so più quanti anni a questa parte forse l'ultima partita così importante per loro era in Europa League contro la Juventus dove vinciamo col gol di Piero Spunizione perché per la Fiorentina vincere un trofeo come la Coppa Italia ma ragazzi ma è oro che cola è oro che cola perché l'italiano sta facendo un grandissimo lavoro e i complimenti li vanno riconosciuti indubbiamente però come vi dicevo anche ieri sera la Fiorentina è una squadra che nell'ultimo quarto d'ora di partita e l'ha detto anche l'italiano ai microfoni continua a prendere gol continua a prendere gol stacca la spina negli ultimi minuti di partita e questo la rende una squadra che si gioca un bel calcio si gioca un gran calcio però allo stesso tempo ha un problema a livello di mentalità e l'avevamo visto anche noi all'andata in campionata finita nello stesso modo con noi che facciamo una partita brutta terrificante tremenda e loro che lo pigliano in quel posto all'ultimo poi in realtà a Torino non avevamo fatto neanche loro una gran partita invece ieri secondo me la Fiorentina ha fatto una bella partita e meritava la vittoria sì però ragazzi va parte del calcio anche questo cioè va parte del calcio anche questo e poi ribadisco per loro la partita della vita che non vedevano loro eh arriva la Juve adesso vi facciamo vedere compriamo i fischietti arriva il traditore che ha portato 80 milioni delle casse alla Fiorentina che equivale al fatturato annuo della società ma questo è un altro discorso loro non vedevano l'ora di vedere arrivare la Juventus di Vlaovic e erano già lì che si sfregavano le mani no? erano già lì che si sfregavano le mani per via delle assenze della Juventus io ora qui vi faccio la pagina di Allegri tanto che ci sono perché per me la pagina di Allegri è da 6 di ieri sera perché ho visto quelli che l'hanno esaltato e quelli che l'hanno crocifisso io mi aggancio alla partita dell'Empoli per fare la valutazione di Allegri dove non gli avevo dato la sufficienza avevo dato 5 e mezzo anche per un discorso relativo al fatto che tanti giocatori iniziavano ad essere stanchi vedi Quadrado e secondo me ci stava dare la possibilità a uno dei ragazzi dell'Under 23 di fare dei minuti per far rifietare Quadrado beh ieri sera ragazzi è successa intanto esattamente questa cosa tanto in attacco abbiamo giocato con Vlaovic e Ken che sono 2-2 mila poi abbiamo giocato con Ake Pellegrini sugli esterni Ake è un 2-1 che gioca in Serie C abbiamo giocato con De Litt, Locatelli insomma ieri c'era anche una squadra abbastanza giovane dato che si dice sempre non facciano giocare i giovani poi quando facciamo giocare i giovani però giochiamo male allora non si arriverà mai a un punto di svolta perché almeno una cosa da criticare ci sarà sempre ma la critica non deve mai essere maggiore rispetto all'amore per la Juventus e alla gioia che si prova per le vittorie della Juve perché se no c'è un cortocircuito nel modo di tifare signori che ognuno è libero di tifare come vuole ci mancherebbe altro però si presuppone che il tifoso tifi la squadra esulti, gioisca per i risultati della squadra in primis che non significa che poi il resto lo butta lì e non serve perché uno che mi dice guarda abbiamo vinto quindi perfetto tutto bene no, non è tutto bene e lo sappiamo però in questo momento ragazzi ci sono nove giocatori ai box nove giocatori ai box cioè non sono pochi nove giocatori ai box provate a immaginare qualsiasi altra squadra in Italia con nove giocatori ai box e provate a immaginare il loro allenatore in conferenza stampa che cosa va a dire in caso di sconfitta, di vittoria, di pareggio non se ne scappa e noi lo stiamo accettando e ce ne abbiamo nove box speriamo di recuperare il prima possibile e intanto andiamo a Firenze quelli che mi dicono Allegri non poteva fare di più secondo me no, non è vero perché leggermente di più in fase ufficiale di quello che abbiamo visto ieri si poteva fare però vi giuro che preferisco il risultato di ieri di Firenze piuttosto che il risultato di Empoli non la prestazione, non la partita, il risultato perché a Empoli mi sono veramente sentito in balia dell'Empoli che in un momento d'altro potesse accadere di tutto e infatti il risultato è stato 3-2 cioè abbiamo preso due gol è vero, ne abbiamo fatti tre fantastico, bene, perfetto ma abbiamo preso due gol e questa squadra non può prendere dei gol perché non è così forte nel farli e allora intanto limitiamo i danni poi ieri potevamo prenderlo forse anche più di uno e non è questo che vi sto dicendo ma ve l'ho sempre detto piuttosto che il 3-2 preferisco l'1-0 come risultato non come prestazione prendere gol mi dà fastidio mi crea nel cervello quella spia mi dà noia a prendere gol poi è ovvio che vorrei fare 3-0 piuttosto che 1-0 o 3-2 perché poi qualcuno qua è andato a snaturare dicendo ah invece no allora non vuoi vincere con più gol di scarto ragionamenti tutti che non si sa bene da dove nascano ma poi questo risultato in Coppa Italia ci mette in una posizione di vantaggio assoluta ragazzi per il ritorno abbiamo due risultati su tre se pareggiamo in casa nostra passiamo noi per via di questo gol qui un gol che veramente mette muta a tacere tutta una città che in questi giorni non aspettava altro ma non è impossibile che non vi crei niente dentro questa cosa del fatto che ci aspettavano come le persone più odiate del mondo ci volevano far vedere loro ci volevano insegnare loro e invece dopo una partita piena di loro speranza infranta infranta su quel palo di conee infranta dietro una juventus macchinosa una juventus compatta ma brutta come la figlia di fantossi all'ultimo secondo si fanno pure autogol all'ultimo secondo si fanno pure autogol e non dico che abbiamo un piede due piedi in finale no però un timido passettino verso la finale l'abbiamo messo e se il primo sentimento dopo tutta questa storia dopo tutte anche le sfortune che abbiamo avuto tutti gli indisponibili tutta questa roba il primo sentimento è dobbiamo vergognarci noi allora ragazzi non so non so che dire poi secondo me il voto è 6 proprio perché c'erano delle difficoltà evidenti ed erano evidenti ma non è stata una bella partita e ve lo dico tranquillamente perché qualcuno una volta mi ha fatto un commento secondo me molto intelligente cioè ma quindi il voto di Allegri è legato anche al risultato perché gli avresti dato comunque questo voto con un risultato differente questo sai non glielo avrei dato ma tranquillamente no ma vincere a Firenze in questa condizione e non vincere a Firenze in questa condizione tra l'altro una partita a eliminazione diretta andata a ritorno in cui c'è il gol fuori casa che ti mette nella condizione di avere due risultati al ritorno piuttosto che uno ragazzi è ovvio è ovvio che il voto viene influenzato dal risultato ma ci mancherebbe ma il voto è sempre influenzato dal risultato cioè riuscire in una cosa e non riuscire in una cosa non è la stessa cosa cioè sono due cose diverse e molto distanti cioè io vi giuro che se dovessi non fossi un tifoso ok mettiamoci in questa condizione non sono un tifoso e ieri sera devo scegliere chi essere tra quelli che hanno giocato la gran partita bellissima fantastica hanno anche preso il palo incredibile dominata in casa nostra ma abbiamo perso e quelli che sono andati là hanno fatto la partita brutta fatto così sculando perché abbiamo avuto un culo da matti all'ultimo secondo a beccare l'altro gol del difensore andare a casa vincendo ma giocando male io scelgo la parte del vincendo giocando male ieri sera se mi fanno scegliere dove andare a letto con che maglietta andare a letto quella da l'Ivinto scuola della Fiorentina non c'è possibilità nel mondo che vada a letto con la maglietta della Fiorentina non può esistere non può se potessi scegliere non sceglierei la posizione dei tifosi della Fiorentina ma nemmeno oggi nemmeno stamattina ma poi ma ragazzi ma a vedere tipo chi è Zazzaroni cosa c'ha il Corriere dello Sport il Corriere dello Sport che titola più culovic che vlaovic di Ivan Zazzaroni ma che bello è sentire sta gente che gli dà proprio fastidio che la Juventus nonostante le difficoltà nonostante gli infortuni nonostante il gioco che non decolla è sempre lì a rompere le balle è lì a rompere i coglioni ma chiedete ai tifosi di Milan Inter e Napoli chiedete agli allenatori di Milan Inter e Napoli vi dà fastidio che la Juventus stia recuperando terreno per quanto distanti lo sapete non ci credo nello scudetto ma quanto dà fastidio a sta gente che la Juventus sta recuperando terreno quanto dà fastidio a sta gente che la Juventus si è aggrappata con un'unghietta alla finale di Champions quanto dà fastidio a sta gente che la Juventus non abbia perso in Champions l'andata quanto dà fastidio a sta Juve che la Juventus è da novembre che non perde una partita nei minuti regolamentari l'unica che ha perso da novembre ad oggi è la Supercoppa all'ultimo secondo ecco ecco la Supercoppa all'ultimo secondo con la cazzata di Alexandro ecco stesso discorso stesso discorso ma i tifosi dell'Inter sono stati lì a dire abbiamo fatto 45 minuti fatti bene il primo tempo poi il secondo tempo primo tempo supplementare secondo tempo supplementare non abbiamo fatto un tiro in porta siamo stati brutti abbiamo giocato male non ci meritiamo ci dobbiamo vergognare i tifosi dell'Inter in quel momento lì hanno goduto come i maiali sporchi di fango ma c'ha ragione loro ma c'ha ragione loro c'hanno ragione loro non sono venuti a dirci vi chiedo scusa mi vergogno ma ragazzi ma stiamo scherzando stiamo dicendo davvero e io vi giuro che quella notte non sarei mai voluto andare a letto con la maglia della Juventus per quello che era accaduto con Alexandro che in faccia me lo fa quell'errore perché io ero lì ma dai ma su ragazzi non prendiamoci in giro non prendiamoci in giro cioè ci sono dei limiti a tutto c'è un limite a tutto c'è un limite a tutto e secondo me abbiamo abbondantemente superato questo limite ci sta assolutamente sottolineare le cose negative che ieri sera vi giuro sono tante a livello di prestazione e sono ben consapevole che con queste prestazioni è molto complicato poi ottenere risultati in striscia e quindi bisognerà anche cercare a un certo punto ma nel momento di emergenza nel momento in cui più difficile della stagione in cui quelli con anche i giocatori sono con le pezze al culo con le bombole d'ossigeno noi nella difficoltà siamo anche riusciti a dare continuità di risultato e non ci va bene vabbè allora se non ci va bene ragazzi se non ci va bene non ci andrà mai bene niente ci vediamo stasera con le altre pagelle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti